È un'opera che mette a rischio un bacino idrico abruzzese importante che nel periodo estivo fornisce acqua a 650.000 persone e che avrebbe un impatto ambientale e sociale negativo nei territori interessati. Così il vicepresidente nazionale d'Italia Nostra Giovanni Damiani sull'attuale progetto di raddoppio della Ferrovia Pescara-Roma. L'associazione, come hanno ribadito anche il presidente e il vicepresidente regionale Pierluigi Vinciguerra e Paola Di Felice e il presidente della sezione di Pescara Massimo Palladini, pur essendo favorevoli alla riqualificazione della tratta ferroviaria, esprime fermo dissenso sul tracciato previsto nel progetto di prefattibilità che prevede due gallerie, da Scafa a Pratola Pelligna all'interno del massiccio del Monte Morrone. Italia Nostra avvia pertanto una battaglia a livello nazionale e presenta un dossier. Il tracciato di prefattibilità che abbiamo visto va ad attraversare trasversalmente il flusso idrico del Monte Morrone. Questo flusso idrico alimenta una moltitudine di sorgenti, tra cui le sorgenti del giardino, che sono praticamente captate dentro l'acquedotto più importante d'Abruzzo. È evidente che questo rischio non può essere corso, perché quando si fanno le gallerie, poi bisogna fare il drenaggio di quest'acqua e noi rischiamo addirittura che le sorgenti possano arrivare a seccarsi. È successo per esempio per le gallerie ferroviarie del Mugello. Anche volendo dire che quest'acqua la possiamo recuperare, come è successo per il traforo del Gran Sasso, sappiamo che diventano acque insicure, che periodicamente possono essere soggette a inquinamenti. costerà almeno 970 milioni di euro, dove stanno i benefici. Inoltre verrebbero tagliati fuori dei comuni importantissimi, parlo di Tocco, parlo di popoli, parlo di tutto l'intorno. Dal punto di vista ambientale potrebbe risultare l'ennesima tragedia idrogeologica d'Abruzzo. Questo Abruzzo che già un secolo e mezzo fa ha visto prosciugare il terzo lago più importante, il Fucino. Poi una tragedia dentro al Gran Sasso dove hanno abbassato con i trafori il livello della falda di 600 metri. Adesso c'è rimasto il Morrone che invece serve qualcosa, almeno tutta la Val Pescara, ma anche Bucchianico, Francavilla, Montesilvano. Siccome gli acquedotti sono interconnessi, si arriva fino ad Atri, tutto questo non può essere assolutamente trascurato.